E' una bella giornata per l'Aquila, finalmente dopo anni riapre al pubblico il complesso sportivo Verde Acqua. A gestirlo, piscina compresa, la Petruziana Sport di Teramo e la Rarinantes dell'Aquila, quest'ultima già responsabile della piscina comunale. E' un passaggio importante perché la piscina comunale in centro è chiusa per lavori e dunque le attività sono trasferite a Verde Acqua. Questa mattina, alla presenza delle istituzioni, c'è stato il taglio del nastro. La piscina sta ai corsieri a 25 metri e una piccola vasca per bambini piccoli, ma la struttura nel complesso può contare su palestra e pista di pattinaggio. La faccenda di Verde Acqua e della sua chiusura ha fatto tanto parlare. Dal 2018 l'impianto è stato chiuso per tre episodi di intossicazione dovuti a un malfunzionamento dell'impianto di reazione. Da allora il complesso è rimasto abbandonato a se stesso, con tante polemiche, ma la gara vinta del nuovo gestore è riportata in sereno. Del resto si tratta di professionisti, meticolosi anche nei lavori, per scongiurare che episodi del genere possano di nuovo intaccare un'attività assolutamente necessaria per la città. Oggi è una bellissima giornata penso per la città, per la città e per tutte le persone che hanno il piacere di frequentare una piscina e quindi di fare sport o a livello agonistico ma anche non agonistico. È stata un po' una sofferenza perché entrare in un ambiente chiuso per cinque anni vi lascio immaginare le difficoltà grandissime che abbiamo incontrato e che forse ci hanno portato anche a lungare i tempi. Oggi finalmente siamo in grado di riaprire e c'è grande soddisfazione, anche perché io ci tenevo in maniera particolare, perché per chi mi conosce sa benissimo che io ci tengo moltissimo a tutto l'ambiente natatorio aquilano e mi sentivo quasi a volte responsabile che in quest'ultimo periodo non c'era questa possibilità. Quindi sono contento, certo devo dire che rispetto alla piscina comunale dove stavamo prima, che gestivamo prima, qui forse abbiamo un ambiente più piccolo e quindi forse sarà un po' più difficile riuscire con la stessa facilità di prima a servire tutte le individualità che verranno. Però a breve riaprirà anche quella, quali saranno i tempi per la comunale? Si pensa che per fine gennaio dovrebbe riaprire anche quella. È chiaro, riaprendo quella la città avrebbe due spazi e quindi la città sarebbe in grado di soddisfare tutte le esigenze natatorie.